E guardo il mondo da un obblò, mi annoio un po' Passo le notti a camminare dentro un metro Sendo uscito da un romanzo giallo Ma cambierò, si cambierò C'è tano arance da un balcone, così non va Tirotti i calci ed un pallone Non, non Non, non Che è successo? Raffae, stavo giocando il telefono, poi mi sei spento Non so che è successo Questo telefono non funziona Può controllare se si è rotto Eh, aspegarelo Ma che è successo? Ma sabato è vacanza Raffae, non sembra di sì Possiamo uscire insieme pure, andare in pizzeria Ci vogliono una pizza, no? Sì, infatti, perché no? Per me è ok Ok, buon meriggio per noi Diciamolo anche a Edmondo Che c'è? Sabato andiamo a mangiare E dove andiamo? Andiamo in pizzeria Andiamo, amico, tanto ci fanno scola pure Sì, ma com'è un'acqua Potrebbe portarci nell'acqua Con iodo con lui Non ci credo mai Ah, dall'altro Mi piacete dove c'è un'acqua VACI? 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 IODO? 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 Grazie a tutti.